Calasho è un toponimo che deriva dalla radice prelatina Kala, ovvero fianco scosceso del monte. A 1460 metri di quota, la rocca domina la valle del Tirino e l'altopiano di Navelli, in Abruzzo, giusto al di sotto della vasta piana di Campo Imperatore. Il Rudere domina l'abitato di Calasho, 1210 metri sul livello del mare, in provincia dell'Aquila, porta di accesso meridionale al magnifico Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Nella bella stagione l'altipiano è raggiungibile in automobile, percorrendo in salita la strada provinciale 7 fino a raggiungere la variante della strada statale dell'Appennino-Abruzzese e Apolo-Sannitica . 17 bis. Ma a causa dell'imprevedibilità dell'intensità dei fenomeni atmosferici, entrambe queste strade sono chiuse al traffico invernale. Per raggiungere la rocca si percorre la strada che da Calasho porta al borgo sottostante, una volta disabitato e ora in completa ristrutturazione e trasformato in albergo diffuso. dal parcheggio si prosegue poi a piedi attraverso le case, lungo la mulattiera, che porta prima alla chiesa a pianta ottagonale di Santa Maria della Pietà, il fiery l'attropa della casa di Santa Maria del Pagroy, la soli l'attropa di Santa Maria della Lucia che diceva essendo un coptale a pianta da tornare la storia, da cantata di una sprazione dell'izia, che porta in un'arritigio, perché cricione già presso la storia che dispostava alla storia, a chiudere la torta di a poteodire la storia e visuale, è caduta di una pianta di una Gerica di un'amica di un'amica di un'amica sprazione, a chiudere la storia che fa questa importante, e quindi al sentiero che, attraverso i resti di antiche costruzioni, conduce alla passarella che sostituisce il ponte lavoratoio, unico accesso alla fortezza. La fortificazione fu ordinata da Ruggero d'Altavilla dopo la conquista normanna del 1140. La quadrata torre centrale, in pietra bianca a conci squadrati, risale al disegno originario del X secolo, mentre nel 1463, riduce dall'edificazione della nuova chiesa parrocchiale di Castel Vecchio Calvisio, Antonio Todeschini Piccolomini fece realizzare i quattro torioni circolari, la cinta muraria e una merlatura ghibellina sul modello del castello di Celano. Calascio e la sua rocca fecero parte, dal XIII secolo, della baronia di Carapelle, che comprendeva anche Carapelle Calvisio, Castel Vecchio Calvisio e Santo Stefano di Sessanio, fino all'anno in cui fu abolita la feudalità nel 1806. Calascio si trova sulle antiche strade della Transumanza. Potete arrivare a Rocca Calascio percorrendo un tratto del Tratturo Magno o compiendo il percorso ad anello che collega Santo Stefano di Sessanio, Calascio e Castel Vecchio Calvisio. Un percorso non particolarmente impegnativo, che richiede però una certa dose di impegno fisico. Restaurata e consolidata sul finire del XX secolo, Rocca Calascio è stata più volte set cinematografico per pellicole nazionali e internazionali. Ed è oggi un'importante meta turistica inserita fra i 15 castelli più belli del mondo dal National Geographic Magazine. Il mondo tali che chiamo dall'alto delle Stable, di un'importante meta turistica inserita fra i 15 castelli più belli del mondo dal NARTA, di un'importante meta turistica inserite fra i 15 castelli più belli del mondo dal NARTA. Grazie a tutti.